per Ciurria, si deve provare a puntare l'avversario, Ciurria non crosse ancora all'indietro, non c'è coraggio non c'è coraggio nel rischiare l'uno contro uno e allora tutto giro palla Con tutti i palloni che gli passano al limite dell'aria, un tiro potrebbe anche provare a farlo Uno dico No, uno l'ha anche provato però non ha centrato la porta Barberis, un altro che il tiro ce l'ha anche, soprattutto i calci piazzati Barberis sulla destra per Ciurria C'è superiorità, bisogna cercarla, Ciurria, palla dentro, deviazione Goal! Ed è gol! Gittier! 1-0 ed è buono! Sì! 74esimo, crosta a destra di Ciurria, leggermente deviato, sbuca alle spalle di tutti il vichigo 1-0 al minuto 74 e Monza la sblocca strameritatamente Monza 1, Juvencus 0 Era ora ragazzi E andiamo Bisogna chiuderla adesso Gittier! Anche buono! Leggera protesta della Juve, leggerissima per posizione ipotetica di Fujitsu Che non c'è, che non c'è, gran palla di Ciurria con sinistro, dormitona Dietro della difesa della Juventus, assi di Ciurria e il vichingo con la punta del piede Sotto porta fa 1-0 per il Monza È stato bravo perché non era facile fare il gol che ha fatto lui sull'anticipo, sull'anticipo è stato molto bravo Pavesi! Balla recuperata, scusa Michele, Pessina possibile col conto 3-3, c'è Colpani, c'è anche Gittier che riceve il pallone e va a servire Colpani Aria di rigore sul mancino, la conclusione, la chiusura di Kostic Pavesi! All'ultimo istante, Kostic È un incubo, Pavesi Io sono senza parole, mi sembra che non sia vera questa cosa perché... Poi lo sentiamo l'ino del Monza, lo aspettavamo da... No, l'ha messo, mi pare la pianometra, nella mia trance agonistica Mi pare la pianometra, ma non è ancora finita la partita Il Monza però sta meritando la fine, cioè... Però non è ancora finita Hai ragione, non è finita, assolutamente sì, calcio d'angolo Paredes, Paredes dai 35 metri, Paredes per mettere dentro questo pallone, Paredes attrade alla fine, dentro, secondo palo, torre, dentro, manco il pallone, sai stoppare Manco un pallone, riesci a stoppare, Vlaovic, vergognati Indecente, indecente Rimesso da fondo per il Monza adesso, 91 e 40 Prenditi il giallo Mancano non so più quanti minuti, mi verrebbe da dire 3, ma potrebbero essere 5 o anche 8, in base all'arbitro quello che vorrà fare Ah, un altro, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, abbiamo un capito Sì, perdonami, guarda che adesso è il vantaggio del giallo, gli dà altri 2 minuti, gli fa giocare fino al cento Ma infatti quello del Monza, se può stare in piedi, sarebbe meglio stare in piedi, no? Piegalo, piegalo di là, perché danno recupero Tutta la partita che stanno, io guarda, rispetto la vostra partita, ma è tutta la gara Su stai facendo distrazione di massa No, no, la riuscione 97, dai 97, 10 ragazzi Su Pierin Dai, avanti, avanti Chiama tutti avanti, rilancia per il sulle testa di un giocatore della Juve, campanile Adesso davvero confusione anche dal Monza Finita! 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 Un vincito, ragazzi La prima vittoria della storia Monta 1 in Juventus 0, primo per Monta 1 in Juventus Lo vince il Monza in Juventus Gittier Una vittoria che resterà nella storia Possiamo pure sentirla, sta musica è pure carina Un bel ruolo Un paese che noto ce ne sta già andando Un paese che noto ce ne sta già andando